Buongiorno, mi chiamo Emanuele Sacerdote, sono stato invitato a questo convegno in quanto ho scritto un libro sul travel retailing e oggi farò un intervento che sostanzialmente traccia le linee guida del travel retailing partendo sostanzialmente da due momenti fondamentali che sono quelli delle origini nel 1947 il primo duty free shop all'aeroporto di Shannon in Irlanda e nel 1955 il primo Disneyland negli Stati Uniti dopodiché traccerò un po' le peculiarità del travel retail rispetto al retail tradizionale tracciando quelle che sono sostanzialmente le principali differenze e peculiarità.